Buongiorno a tutti, mi chiamo Donato Montanari e sono uno dei quattro co-founders, soci e fondatori di doorway. Io ho trascorso la maggior parte della mia carriera professionale e vita lavorativa all'estero, dagli Stati Uniti al nord Europa, alla Cina, all'Asia, dove mi sono sempre occupato di nuove tecnologie, intelligenza artificiale, ma soprattutto innovazione. Innovazione che è il cuore pulsante di un paese, è il motore che genera costi di lavoro, non tanto per oggi, ma soprattutto per il futuro. Per l'entrata in Italia mi sono reso conto come fosse difficile nella realtà italiana fare innovazione, soprattutto per start-up, soprattutto per piccolissime aziende, soprattutto per i giovani che escono dall'università con tanta voglia di fare, con tanta creatività e poi vanno in a mente. Come ho fatto io, come feci io. E mi sono chiesto perché. Allora, secondo me e secondo gli altri soci di doorway non è sicuramente la mancanza di idee. L'Italia è sempre stata un paese creativo, forse la creatività l'abbiamo inventata noi, non per mancanza di persone, abbiamo dei laureati, dei diplomati assolutamente incredibili a livello mondiale, né per mancanze finanziarie, perché alla fine i soldi ci sono e si trovano. Secondo noi quello che manca nell'ecosistema dell'innovazione, della filiera dell'innovazione italiana, è la figura strutturata del business angel. È la figura di quel personaggio che ha una certa disponibilità economica, che ha una conoscenza molto approfondita su uno specifico ramo settoriale che investe in start-up. Ora, per investire in start-up questo business angel ha bisogno di un network, ha bisogno di una rete che lo faccia sentire tranquillo, lo faccia sentire parte di un qualcosa, il concetto della coorte, no, per essere forti di una stranità. E quello che abbiamo cercato di fare Antonella, Federico, Marco e io è di creare Doorway proprio come una piattaforma digitale per sopperire questa mancanza. Una piattaforma come punto di ritrovo per business angel e investitori, nell'ambito della quale possono discutere, possono scambiarsi idee, possono vedere le start-up più promettenti e su queste start-up più promettenti non soltanto investire il proprio capitale, ma soprattutto la propria conoscenza, il proprio know-how, la propria esperienza per crescere insieme a queste start-up. Per cui noi vediamo l'investimento non come il punto d'arrivo, ma come il punto di partenza. E per questo uno degli strumenti fondamentali di Doorway è questo cruscotto che abbiamo creato attraverso il quale l'investitore può continuare a vedere come la start-up si evolve nel tempo e come il suo investimento sta funzionando.